Il lungo cammino delle celebrazioni del cinquantenario della polisportiva San Donino ha registrato un'ulteriore significativa tapa con la celebrazione del centenario del glorioso Bologna Football Club 1909. Alla serata di martedì 2 giugno 2009, in occasione della festa della Repubblica, hanno risposto all'appello della locale società sportiva del quartiere San Donato un centinaio di persone che hanno riempito la sala parrocchiale di San Donino all'uscita della tangenziale di Bologna San Donato. Vista la piega che aveva assunto l'andamento della squadra rosso-blu nel girono di ritorno della Serie A, è stato un atto di coraggio l'organizzazione di questo evento in una data che non era stata scelta a caso ma proprio a due giornate dalla conclusione del campionato 2008-2009. È stata una serata originale, un cocktail equilibrato di discorsi diversi. La presenza è stata veramente qualificata. Citiamo i presenti d'un fiato per rimarcare la presenza di Alberto Bortolotti, vicepresidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, il professor Orlando Dondarini, ideatore della Festa della Storia, Renato Rizzoli, presidente provinciale del CONI di Bologna, Roberto Zalambani, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti e addetto stampa della Federazione delle Casse Rurali dell'Emilia-Romagna, Stefano Gamberini, una delle colonne della consulta diocesana dello sport e già presidente del Centro Sportivo Italiano di Bologna. Certo, mancava la presenza ufficiale della società Rosso Blu presieduta da Francesca Menarini e dalla tifoseria organizzata a Rosso Blu, una manifestazione che correva il rischio di essere solo una rievocazione e celebrazione, invece diventato un evento con profondi contenuti socio-culturali. Era una scommessa da tanti punti di vista, ma alla fine sono apparsi tutti soddisfatti. Dopo il saluto del presidente del Sandonino, Giovanni Calzoni, vi è stata l'introduzione di Floriano Roncarati, responsabile delle iniziative e delle manifestazioni del cinquantesimo della Polisportiva Sandonino. Poi il saluto del presidente della Polisportiva Antal Palavicini Finelli, la polisportiva cugina del Sandonino per i profondi legami che unisse le due società aderenti al Centro Sportivo Italiano. Sono state soprattutto le immagini, assemblate da Claudio Calzoni, che hanno dato in impronta la serata, ma il grande regista dell'incontro è stato il giornalista Alberto Bortolotti, che in questo lembo di terra del quartiere Sandonato ha trovato la consorte e soprattutto nel villaggio dei giovani sposi voluto dal cardinale Ercaro, continua ad avere riferimenti molto importanti della sua famiglia. Nel dipanarsi degli argomenti, i presenti hanno potuto apprezzare le affabilità, la competenza e la disponibilità dell'ideatore del palone gonfiato che ha guidato il meeting con grande professionalità. Il ricordo di Don Libero Nanni è stato tenuto da Stefano Gamberini, il quale, prima come componente della consulta diocesana dello sport, ma è stato anche grande amico del cappellano del Bologna. L'ex presidente del CSI ha rievocato la storia personale del sacerdote che è stato vicino ai Rosso Blu, le sue gioie e le sue emerese. Don Libero ha operato anche tra i ferrovieri e nella realtà dell'Onarmo. Don Nanni era molto devota alla Madonna e ha compiuto molti pellegrinaggi a Lourdes. Era anche legato al territorio di Sandonato per il villaggio dei giovani sposi voluto dal cardinale Giacomo Ercaro per la presenza dello smistamento ferroviario e delle case del triangolo dei ferrovieri di via della Campania. Nell'intervento il professor Rolando Dondarini, autorevole esponente del mondo accademico bolognese e ideatore della Festa della Storia, ha spiegato il senso dello slogan della quinta edizione della Festa della Storia 2008, un futuro per la storia, la storia per il futuro, che è stato adottato dal Sandonino come motto del proprio cinquantenario. Da segnalare che alla serata hanno presenziato il portiere Alberto Marzi, sandoninese, che ha militato nelle file del Bologna, ed il giornalista Andrea Bacolini, una delle voci che ha raccontato attraverso lettere nel corso della stagione 2008-2009 le vicende rosso-blu. I numerosi partecipanti hanno avuto l'opportunità di intervenire con domande o considerazioni sull'andamento del mondo calcistico, ai quali ha risposto l'opinionista Alberto Bortolotti. Nel corso dei lavori, particolari riconoscimenti sono stati attribuiti a tre persone che hanno dato gloria ai colori del Sandonino, Vinicio Grandi, fondatore della società, e i due più prestigiosi calciatori espressi dallo sport sandoninese, Alfonso Rodolfi e Gino Cinti. Nella parte terminale dell'incontro, il giornalista Roberto Zalambani ha ricordato l'apporto decisivo di Don Libero per la collocazione della lapide, voluta dall'Associazione dei giornalisti cattolici, sul primo binario della stazione centrale di Bologna per ricordare la visita e la preghiera di Giovanni Paolo II nel luogo della strage dell'agosto 1980. Le conclusioni della serata sono state tratte dal presidente provinciale del CONI, Renato Rizzoli, che ha messo in evidenza il significato delle Bologna di 2009 e l'azione che il CONI petroniano sta facendo per la promozione dei valori olimpici. La manifestazione sul centenario del Bologna Football Club 1909, organizzato dalla polisportiva Sandonino, ha cercato di coniugare l'opportunità della settimana olimpica bolognese e il desiderio di far amare sempre più la squadra del dottor Balanzone. La serata è stata un'occasione di aggregazione e socializzazione con la quale il Sandonino ha voluto accomunare i valori olimpici con quelli dello sport di base, ma anche evidenziare come nel cuore degli sportivi vive la petronianità che accomuna la fede per il Sandonino e per il Bologna. Come disse Monsignor Ernesto Vecchi in occasione dei funerali di Giacomo Bulgarelli, quella petronianità per la quale lungo i secoli la città di Bologna è fiorita in modo armonico a tutto campo, nei monumenti, nell'arte, nelle opere di misericordia e di promozione umana, nelle strutture educative e recreative dove lo sport, specialmente nel calcio, ha raggiunto traguardi sublimi.